Io invece 70. Allora a Maria Letizia Gorga, auguri! Grazie, ecco, a Simona Marchini che è venuta da Roma e mi ha donato questo bel momento teatrale, a Enrico Vicinanza, Alfio Antico, a tutti quelli che, a Erminia che mi ha portato questo dolce balletto, questo dolce momento. Pensate che queste ragazze hanno ballato nella Cantata dei Pastori l'anno scorso, Erminia ha fatto una bellissima coreografia. Adesso i miei amici che stanno qua dietro di me, ve li voglio presentare tutti quanti, stanno con me da vent'anni e mi hanno amato, protetto con la loro arte, perché stare da solo sulla scienza, perlomeno c'è una bella spalla che stanno a reso. E allora, alla chitarra classica il maestro Paolo Del Vecchio, alle percussioni e alla batteria il maestro Ivan Lacagnina, alla chitarra basso il maestro Sasa Pelosi, al violoncello il maestro Giorgio Melloni, ai fiati il maestro Massimiliano Sacchi, al pianoforte il maestro Paolo Del Vecchio, a proposito di... no, perché sta di fronte a me Teresa Del Vecchio. E allora Teresa Del Vecchio, che è stata così carina a recitare quella cosa che scrisse io tanto tempo fa, ecco, un ringraziamento a Teresa Del Vecchio, ma il maestro della fisarmonica e del pianoforte si chiama Luca Urciuoli. Siccome l'imbatto, no, Teresa Del Vecchio là, allora non ho capito più niente. Allora, visto che siete venuti così numerosi e così carini, mi dedico, ecco, stavolta voglio dedicarla io a voi, questa canzone, l'Uvasillo, il piccolo bacio. Grazie. Grazie.